Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. L'ho detto e lo ridico, il transito nel 2013 da Papa Ratzinger a Papa Bergoglio segna una vera e propria catastrofe nel mondo della Chiesa. Si passa dall'ultimo baluardo di resistenza alle potenze anticristiche della globalizzazione capitalistica al primo pontefice mondialista che annulla il senso di Dio della trascendenza e del sacro e che piega la Chiesa all'immanentismo nichilistico della civiltà dei consumi. Potremmo dire, senza esagerazioni, con un'analogia che Bergoglio è per la Chiesa ciò che Gorbaciov fu per il comunismo. La ristrutturazione perestroica che Gorbaciov attuò del comunismo fu in verità la sua dissoluzione, con annesso transito del vecchio mondo comunista sotto le insegne del nichilismo della civiltà individualistica dei consumi americanizzata. In fondo la vicenda, cavaliere tra il tragico e il comico, di Gorbaciov si lascia condensare nel fatto che ancora nel novembre del 90, circondato da generali in alta uniforme della nomenclatura di Stato e di Partito, ebbene Gorbaciov assisteva dalla tribuna del mausoleo di Lenin alla parata militare per la celebrazione dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Due anni dopo, nel 1992, troviamo invece Gorbaciov come surreale protagonista di una reclam televisiva della catena americana Pizzat. In ciò sta il transito tragicomico dal comunismo storico novecentesco al nuovo capitalismo anche in area russa. Ne deve essere obbliato il fatto che nel 1990 gli economisti di Gorbaciov elaborarono un piano, poi ribattezzato come dei 400 giorni, che mirava una massiccia privatizzazione dell'economia sovietica con palese curvatura anglosassone e antisocialista. Ebbene, in questa apoteosi del caos russo, come la chiamata Jacques Sapir, Gorbaciov aveva assunto la missione di seppellitore per conto del capitalismo americano del vecchio comunismo storico novecentesco, e a questo progetto aveva assegnato l'allettante e altamente orwegliano nome di perestroica, ossia appunto di ricostruzione. Ordunque, come Gorbaciov, anche Papa Bergoglio dal 2013 si fece a suo modo promotore della perestroica in seno alla Chiesa Cattolica. Dietro l'ufficiale volontà di ricostruirla dopo l'episodio del balcone vuoto di San Pietro e di portarla all'altezza dei tempi dell'iperimmanentismo e della scristianizzazione, si nascondeva in vero la concreta dissoluzione della Chiesa come ultimo baluardo positivo al nichilismo della civiltà dei consumi americanocentrica. Il suicidio della rivoluzione, come era stato teorizzato da Augusto del Noce, si ebbe così anche sul cotè del regno cristiano cattolico, e ciò nella forma di una inconfessabile figura del suicidio della Chiesa, la quale, per portarsi all'altezza del mondo sdivinizzato e neoedonista, negò se stessa e lo fece in forma suicidaria, ridefinendosi con Bergoglio come ancella del nuovo ordine mondiale sdivinizzato e teologicamente corretto. È ancora una volta l'analogon di quanto accadde con Gorbaciov in Russia. Il comunismo si era portato all'altezza dei tempi suicidandosi e sciogliendosi nel nuovo ordine mondiale atlantista a liberalizzazione individualistica integrale dei consumi e dei costumi. Il paradosso lampante sta oltretutto nel fatto che né il comunismo sovietico né la Chiesa di Roma riuscirono a cogliere la reale essenza catecontica, cioè di opposizione e di freno, l'uno dell'altra rispetto al globalismo mercatista. Di più, la Chiesa di Roma e il partito di Mosca si fecero una guerra reciproca, ora aperta, ora sotterranea, senza comprendere mai realmente che il nichilismo capitalistico avrebbe travolto sia l'uno sia l'altra. Tanto la Chiesa di Roma quanto il comunismo di Mosca in effetti svolsero, sia pure in forme diversissime, il ruolo di catecon, come dice la teologia politica, di potenza resistenziale rispetto al dilagare dell'onnimercificazione, del nichilismo relativistico e della mondializzazione americanocentrica dei corpi e delle coscienze. Solo così si spiega del resto la battaglia condotta da Papa Waitila contro il relativismo nichilistico della civiltà dei mercati e insieme contro il comunismo storico novecentesco, che era inteso da lui sempre e solo come dittatura totalitaria e come materialismo ateo. Si sarebbe incaricato poi il disordinato ordine post-1989 di mostrare a Papa Waitila come la fine del comunismo, Berlino 1989, non generasse libertà e pace, trionfo della fede cristiana e vittoria sul materialismo ateo, ma esattamente l'opposto. Nuove forme di oppressione e di disuguaglianza, avanzamento sempre più celere della scristianizzazione e della desacralizzazione del mondo, vittoria dell'ateismo neoedonista e materialista, istanze totalitarie di controllo e omologazione ancora più radicale di quella prodotta dai totalitarismi novecenteschi rossi e bruni. In sintesi, possiamo dirlo ora, la pur ingloriosa fine dell'Unione Sovietica liberò soltanto il delirio nichilistico del capitalismo integrale, fino a quel momento tenuto a freno dalla divisione del mondo secondo il principio del cuiius regio eius economia. Proprio come la fine sotto gli occhi di tutti della Chiesa, nella sua figura suicidaria intrapresa da Papa Bergoglio, segna anche in questo caso la vittoria del capitalismo e la fine di una potenza catecontica che ancora con Ratzinger aveva tenuto a freno e disciplinato il delirio di onnipotenza nichilistica e relativistica del global capitalismo.